Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Bus navetta per raggiungere la chiesa Sicurezza sulle strade Dopo gli incidenti dei giorni scorsi Al nostro telegiornale parla l'assessore Tonelli Aumenteremo le risorse per garantire maggiore sicurezza Guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Massimo Renelli, l'uomo che ha investito e ucciso le due amiche di Colli al Metauro All'uscita di una discoteca a Senigalli Le otto proposte della Lega per migliorare la vivibilità del quartiere Sant'Orso Intanto non piace la nuova pista ciclabile appena inaugurata Presentato il dossier per la candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2021 Top Secret, il logo, mentre sarà Vitruvio il tema centrale del progetto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia come sempre sul canale 17 Questa sera apriamo il telegiornale parlando del picco influenzale Che è previsto per la fine del mese, inizio di febbraio E siamo andati a sentire all'Asur, a Marche Nord, com'è la situazione Influenza 2019-2020 Il peggio deve ancora arrivare perché il picco influenzale è previsto per la prima settimana di febbraio A metà gennaio però l'osservatorio registra un brusco aumento del numero di casi di sindrome simil-influenzale Soprattutto nei giovani adulti e negli anziani Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 374.000 Per un totale dall'inizio della sorveglianza di 2.268.000 casi La rivelazione dei dati delle sindrome influenzali è iniziata il 14 ottobre del 2019 E terminerà il 26 aprile del 2020 Fino ad ora le regioni maggiormente colpite sono Piemonte, Lombardia, il Trentino, l'Umbria e l'Emilia Romagna Una situazione particolare si è registrata invece nelle Marche Dove l'incidenza ha superato i 4 casi per 1000 assistiti E nella nostra provincia è tutto pronto quindi in strutture pubbliche e medici sul territorio Per affrontare le migliaia di persone che verranno messe a letto dal virus Marche Nord si prepara ad affrontare l'afflusso dei pazienti per l'arrivo del picco influenzale Il direttore generale Maria Capalbo e il direttore sanitario Edoardo Berselli Hanno convocato una cabina di regia per costituire una task force per fronteggiare l'emergenza eventuale Marche Nord mette in campo una serie di azioni per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti Spiega il direttore generale Maria Capalbo I protocolli che stiamo attivando resteranno in piedi quindi fino alla fine dell'emergenza Il modello è quello dello scorso anno che ha funzionato dice Edoardo Berselli, direttore sanitario Quotidianamente vengono messi a disposizione del pronto soccorso circa 30 posti letto in più da riservare alle emergenze Ad oggi comunque dal fronte del pronto soccorso non si registra un aumento degli accessi Precisano Umberto Gnudi e Giancarlo Titolo, i responsabili del pronto soccorso di Pesore di Fano Da questa settimana però è partita la fase ascendente per questo la task force è fondamentale per fare fronte all'emergenza Ovviamente è fondamentale ricordare che aver fatto la vaccinazione rimane il principale strumento di prevenzione dell'influenza Comunque per i prossimi giorni per ridurre la trasmissione del virus o dell'influenza È importante mettere in campo da parte di ognuno di noi delle misure di protezioni personali Come per esempio lavaggio frequente delle mani, in assenza di acqua si possono usare anche i gel alcolici Buona igiene respiratoria, coprire la bocca e naso quando si starnutisce o tussisce Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase iniziale E poi uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale Quando si trovano in ambienti sanitari, ospedali o ambulatori Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo ospedale di Ancona Sud Nel territorio di Camerano, in provincia di Ancona L'uomo, un 49enne di origini campane, è stato colpito alla testa dal braccio meccanico di un bobcat manovrato da un collega Sono scattati i soccorsi che però sono stati inutili Si era levata in volo anche l'eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare La vittima lavorava per la BLG Costruzioni I militari dovranno sentire anche l'operaio che era alla guida del mezzo Domani alle 15 si terranno nella chiesa di Centinarola a Fano i funerali di Patrick Mencoboni Il giovane 24enne morto in un incidente stradale sulla Flaminia alle 2.30 di domenica notte Per motivi di sicurezza via Monfalcone verrà chiusa al traffico Pertanto per consentire a tutti di raggiungere la chiesa è stato organizzato un servizio gratuito di bus navetta Dal parcheggio del Codma di Rosciano dove sarà possibile parcheggiare l'auto Le corse inizieranno intorno alle 14.30 e proseguiranno fino al termine della funzione religiosa Incidenti stradali Svolto un vertice in prefettura dove era presente anche l'assessore Tonelli Assessore che ai nostri microfoni assicura aumenteremo le risorse per garantire più sicurezza sulle strade I recenti fatti di cronaca in materia di incidenti stradali hanno evidenziato ulteriormente il problema della sicurezza sulle strade Dato elevato di vittime che nell'ultimo periodo è emerso dai pericoli stradali, dei tratti urbani, delle grandi arterie della città Dove spesso il traffico motorizzato scorre ad alta velocità e dove le strutture non sono del tutto adatte a tutelare la mobilità dei pedoni e velocipedi La segnaletica che limita la velocità degli autoveicoli a 50 km all'ora come lungo la Flaminia non è quasi mai rispettato E specialmente nelle ore notturne il traffico scorre ad alte velocità Più volte è stata richiesta dai residenti della strada la sistemazione di dissuasori con lo scopo di rallentare la corsa dei veicoli Ma la richiesta al momento non è stata accolta verificandosi nei giorni scorsi un altro incidente Nella giornata di ieri l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano ha partecipato in prefettura alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica In cui il prefetto La Polla ha incentivato di prendere azioni concrete per aumentare la sicurezza stradale In considerazione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa sulla Flaminia Noi come amministrazione abbiamo intenzione di individuare le aree di criticità delle assi Non solo della Flaminia quindi ma anche la strada nazionale Adriatica Sud e anche l'Adriatica Nord Individuare queste aree per poter iniziare un progetto Quindi una progettualità e anche un tavolo di lavoro con ANAS e con la provincia appunto per individuare le zone pericolose E prendere dei provvedimenti La zona di Metauriglia o anche Viale Primo Maggio O la zona di Rusciano e di Cucurano appunto Intanto è importante avere le idee chiare su che cosa fare e dove intervenire Il provvedimento che vorremmo prendere è appunto quello della progettualità Risultato positivo anche a sostanze stupefacenti Massimo Renelli l'autotrasportatore 47enne che nelle prime ore del 6 gennaio Travolse e uccise due donne all'uscita di una discoteca lungo la strada provinciale arceviese Nei dintori di Senigallia Lo riferiscono oggi le pagine locali del resto del Carlino Renelli positivo all'alcol test con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito Era stato sottoposto anche ad ulteriori test per accertare se avesse assunto altre sostanze alteranti Da quello che risulta all'Ansa sarebbe positivo anche all'Ascish Ma non si sa ancora in quale misura Renelli accusato di duplice omicidio stradale si trova ora agli arresti domiciliari Cambiamo pagina La Lega di Fano per il quartiere di Sant'Orso Raccolto a dei progetti In particolare delle proposte Ne ha otto Che il nostro Lino Balestra ha raccolto in questo servizio Appena inaugurata è già fonte di disaccordo tra le forze politiche La pista ciclopedonale nuova di Zecca di Sant'Orso Anello di una catena più lunga di interventi dell'amministrazione comunale Per un quartiere modello e a misura di pedone bambino Ha fatto accendere però i riflettori sulla criticità che permangono a detta dell'opposizione In questo popoloso quartiere diviso tra parte storica, primo nucleo urbano E zone più recenti a ridosso della superstrada tagliate in due da via Soncino La Lega Fanese ha presentato in queste ore una mozione che contiene proposte migliorative per il quartiere E con un'interrogazione chiede anche chiarimenti sui soldi delle casse comunali spesi per questa opera E immediati interventi su tutta la viabilità della zona Sì per carità, ben vengono nuove piste ciclabili nella nostra città Però quando vediamo che si spendono così tanti soldi, ben 130.000 euro E poi il risultato è scarso perché di fatto mette ancora più in pericolosità Gli automobilisti e ciclisti della zona Dove denotiamo anche delle problematiche come l'autobus che non entra nella piazzola di Sosta O degli ostacoli addirittura sulla ciclabile Secondo noi poteva essere fatto questo intervento a minor costo E sistemando anche altre zone di Sant'Orso che invece meritano molto di più un intervento Come tutta la parte vecchia di via Galileo Galilei, la stessa via Bellandra O le altre zone di via Soncino Perché via Soncino non termina qui dove siamo noi ma termina molto più avanti Comunque al di là delle critiche vorremmo anche proporre delle iniziative Quindi abbiamo presentato un documento come Lega dopo averla condiviso con i cittadini Quindi i residenti, i commercianti della città Un parcheggio davanti al ristorantino Le Rose che comunque è carente di parcheggi in questo momento Oltre questo chiediamo immediatamente di rimettere a posto il cartello sulla velocità Perché attualmente in via Soncino purtroppo le auto vanno molto veloce Chiediamo sicuramente più sicurezza ma anche maggior attenzione alla parte tra virgolette vecchia di Sant'Orso Quindi via Galileo Galilei e anche tutte le vie che necessitano sicuramente di una sistemazione completa Siamo in un altro punto dove la viabilità avrebbe bisogno di un intervento importante Sì, un'altra proposta che vorremmo avanzare è quella di istituzione di una rotatoria in questo incrocio Perché alla fine fungerebbe anche da deterrente per tutte le persone che arrivano dalla zona di Bellocchi Che spesso arrivano ad alta velocità La proposta che avanziamo come Lega è quella di istituire una rotatoria qui Che permetterebbe sicuramente a tutti coloro che escono anche di via Visconti E che attualmente attraversano la strada in modo improprio Perché ci sarebbe l'obbligo di svolta a destra E quindi non si potrebbe andare su via Magalotti qui di fronte La nostra proposta appunto è quella di una piccola rotatoria Che fungerebbe da deterrente e rallenterebbe il traffico della zona Ricovero in ospedale per il Presidente dell'Unione delle Proloco della provincia di Piesa Urbino Damiano Bartocetti Il Presidente, che è anche il Presidente della Proloco di Monbaroccio È da ieri nel reparto di medicina dell'ospedale Santa Croce Per effettuare alcuni accertamenti in merito a diverse problematiche di salute Emerse negli ultimi giorni A Bartocetti gli auguri di pronta guarigione sono giunti da parte dei suoi collaboratori Finché si legge in una nota del direttivo al più presto possa tornare operativo In quella che è la sua grande passione Ovvero il lavoro per le comunità di tutto il territorio Presentato il dossier per la candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2021 Top secret il logo Mentre è chiaro il tema che è nel progetto E il tema sarà quello legato a Vitruvio La città di Fano è candidata al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021 Secondo i termini del bando pubblicato dal MIBAC Entrato nel vivo il lavoro preparatorio del dossier per la candidatura Che andrà presentato entro il 2 marzo prossimo La scelta di candidare Fano costituisce di soddisfare una richiesta forte Emersa durante un processo partecipativo per l'elaborazione del piano strategico Della città Orizzonte Fano 2030 Dove la cultura veniva intesa come strumento privilegiato Di sviluppo economico e sociale Di rilancio della città quale destinazione turistica A partire dal piano strategico Il dossier riprenderà gli scenari della città abitabile Dell'innovazione aperta E della città del riuso e della riattivazione delle risorse e altri temi I campi, i luoghi di lavoro per perseguire questa visione Sono quelli che oggi contraddistinguono la cultura a Fano La cultura in un senso largo Quindi carnevale, romanità, città delle bambine e bambini Il mare, il territorio Ecco su questi cantieri possiamo dire Sono imbastiti dei lavori Che poi procureranno anche degli eventi Ecco così che arriviamo al programma spettacolare di Fano Capitale 2021 Vitruvio è insieme una fonte di valori Come vorremmo presentare venerdì Si vedrà che questo ha un ambito di applicazione molto concreto L'amministrazione comunale è entrata nel vivo del progetto Venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 Nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna Presenterà lo schema del dossier Qui seguirà la presentazione del nuovo logo Segno identificativo che accompagnerà Fano in questo percorso Ampio spazio sarà riservato alle energie creative del mondo associazionistico Dagli operatori della cultura, dell'economia, del sociale fino allo sport Ma anche a coloro che intendano contribuire al progetto Con una propria proposta in fase di elaborazione del documento Ed è un lavoro che rimarrà anche per il dopo Perché diventa un piano strategico Diventa anche un percorso che noi proseguiremo Anche con ulteriori investimenti e realizzazioni Che portano anche valore e ricchezza al nostro territorio Veronica e Gerry sono i vincitori del concorso Dedicato ai presepi Organizzato ogni anno sotto le feste di Natale Da Fano TV E oggi abbiamo incontrato i due presepisti vincitori Ebbene a conclusione del concorso dei presepi Sempre gettonatissimo ogni anno Anche quest'anno siamo un po' arrivati alla conclusione Abbiamo qui ospiti nei nostri studi I vincitori di questa edizione Qui c'è il loro gift pronto per essere consegnato Conosciamoli insieme Allora siete? Io Veronica E Gerry Veniamo da Mondolfo Da Mondolfo Allora presepisti per passione Vi piace così tanto fare il presepi? Sì molto Abbiamo la passione Sì ci piace molto Da dove l'avete ereditato? Dai genitori? Dai genitori Dopo ogni anno ci piace anche farlo sempre diverso Cambiarlo ogni anno Bene Bene Contenti di questa piccola vittoria? Sì molto Molto soddisfatti Ecco i sacrifici alle volte vengono ricompensati Quando hai iniziato a fare il presepre? I primi di dicembre I primi di dicembre In una settimana facciamo tutto Tutto sì Ecco va bene Di divertimento, di piacere Allora qui c'è la smart box Il vostro regalo Quindi io ve lo faccio ufficialmente Con segnale nelle mani E quindi insomma siamo arrivati alla conclusione Perfetto Grazie Grazie mille E naturalmente al secondo posto ex eco tutti gli altri Tutti quelli che hanno partecipato e sono davvero centinaia e centinaia Grazie di cuore E prima di salutarci vi do appuntamento a lunedì Perché lunedì c'è un nuovo sindaco Un altro sindaco ospite qui al programma Primo Cittadino Lo vedete nella fotografia Gabriele Bonci Sindaco di Fossombrone Per intervenire in diretta Il numero lo vedete Così come per Mandare domande e messaggi Previ al sindaco Il numero è quello che ormai conoscete bene 338 4968 250 Non ci fermiamo qui Ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta Con la rassegna stampa Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie a tutti